Questo è il video che stavate aspettando sul mio canale, realizzare una collezione da 10.000 o più nft letteralmente come queste utilizzando quello che credo essere il programma più usato per creare le grafiche, Photoshop. Iniziamo con il tutorial. Prima di tutto recatevi nel link che vi lascio qui sotto in descrizione e vi troverete davanti questa schermata. Da qui andate su versione 1.0.1 ma la vostra potrebbe essere diversa in caso ci fossero degli aggiornamenti e una volta cliccato scaricate quindi la versione più recente andando su source code ed io lo scarico sul desktop. Una volta scaricato estraetelo. Una volta estratto il file zip potete anche eliminarlo e prendete questo file .psd, ovviamente il file deve essere il vostro, e trascinatelo in questa cartella. Mi raccomando controllate che non ci siano altre sottocartelle all'interno perché altrimenti non funzionerà. Infatti in questo caso una volta estratto mi ha lasciato comunque questa cartella all'interno. Prendete il vostro file .psd e trascinatelo qui dentro. Adesso fate doppio clic qui e aprite il vostro file Photoshop. Ed eccoci qui, vi troverete davanti una schermata come questa ma ovviamente con i vostri file. Una volta che voi con Photoshop o con qualsiasi altro programma di grafica avete generato le vostre immagini dovete metterle in delle cartelle. Come potete vedere qui c'è background, eyeball, eye color e così via. Ovviamente se ne dovessi eliminare uno vedete come l'immagine cambia. Questo perché appunto l'avete messo in delle cartelle ed in ordine gerarchico. Infatti ricordate che quello che mettete più in basso sarà il primo ad apparire, quello che mettete più in alto sarà l'ultimo ad apparire. Infatti vi faccio vedere che se levassi il background si nota che qui sotto nello sfondo manca qualcosa, ma ovviamente se levassi top lead e bottom lead non si vedrebbero i livelli sopra, perché questi sono gli ultimi che vengono aggiunti dal programma. Come funziona solitamente Photoshop insomma. Ora però viene la fase in cui creiamo gli nft e con creare nft intendo sia i file png che i file json. Per crearli basta andare su file, script e browse. Andate dove avete scaricato il file, in questo caso io devo aprire due cartelle e poi cliccate il file generate.javascript. Vedete che qui su windows ci chiede di specificare che tipo di file è, ma ovviamente lo fa in automatico. Mentre invece su mac questo non va specificato. In tutti i casi voi cliccate su load, vi apparirà un messaggio che vi dice che state per utilizzare uno script esterno, voi approvate, vi chiede quante immagini volete generare e ovviamente io per i fini del video metterò 10 ma voi potete mettere anche 10.000. Cliccate su ok e poi apparirà un altro messaggio in cui vi si chiede il nome della collezione. Cliccate sempre su ok per andare avanti ed ora vi apparirà un messaggio che vi chiederà di inserire una descrizione per la vostra collezione. Io adesso inserisco tutte le lettere a caso e clicco su ok. Adesso questo pop up ci avvisa che le nostre 10 immagini saranno generate e che dobbiamo solamente aspettare. Clicchiamo su ok. Quando tutte le immagini che avete deciso di generare saranno create vi apparirà questo messaggio. Ovviamente però prima che questo messaggio appaia voi non dovete in nessun modo chiudere l'applicazione. Adesso io clicco su ok e adesso tornando sulla cartella che avevo scaricato vedrò una nuova sottocartella con il nome build. Una volta aperta possiamo vedere che all'interno ci sono sia i file png eccoli qui tutti e 10 ma anche i file json eccoli qui sempre 10. Se adesso andassimo aprire un file json possiamo vedere come c'è il nome della collezione, la sua descrizione, l'image ovvero il link dell'ipfs per poi caricarli su openc che attualmente è mancante e poi vediamo che questo è il primo nft e tutti i tratti utilizzati. Ovviamente a noi questo image to be replaced non va bene perché per caricare le immagini su openc e renderle quindi effettivamente degli nft qui ci deve essere il cid della cartella png e per avere questo cid della cartella png c'è bisogno di caricarla su un ipfs. In questo caso io utilizzerò pignata dove dovete semplicemente creare un vostro account e poi caricare la vostra cartella. Il tutto gratuitamente se non si supera un giga di spazio. Una volta che vi trovate in questa schermata andate su upload folder select e selezionate la cartella images. Qui date l'ok poi dategli un nome in questo caso io la chiamerò 1 e cliccate su upload. Ovviamente in base a quanti nft avete generato ci metterà più o meno tempo. Adesso io avendone generati solamente 10 ci ha messo pochissimo. Quindi adesso che dovete fare? Eccolo qui. Questo è il cid della vostra cartella png. Cliccate su questo pulsante per copiarlo. Poi tornate su photoshop. Se adesso la vostra schermata appare così tranquilla e normale. Poi cliccate su file. Di nuovo script. Di nuovo browse. E questa volta invece che generate.javascript selezionate update metadata.javascript. Stesso discorso di prima. qui potrebbe essere necessario su windows selezionare che il tipo di file è javascript mentre su mac non ce n'è bisogno. Cliccate su load. Vi apparirà nuovamente questo messaggio che vi dice di stare andando ad utilizzare uno script esterno. Voi confermate ovviamente se volete. E adesso qui vi chiederà qual è il metadata prefix. Voi dovete semplicemente digitare ipfs due punti doppio slash e fare control v del cid che avete appena copiato. Mi raccomando prima di cliccare ok dovete aggiungere un altro slash alla fine di questo cid. Altrimenti non funzionerà. Cliccate su ok e adesso vi chiederà qual è il metadata suffix. Visto che i file che ho generato sono dei png io metterò appunto png. Adesso clicco nuovamente su ok ed istantaneamente mi è uscito questo messaggio che mi dice che il processo è completato. Ovviamente se voi avete creato 10.000 immagini ci metterà di più ma comunque questa parte del processo è molto veloce. Se adesso torno dove ci sono i file json e ne cliccassi uno posso vedere che in image non c'è più replace ma c'è ipfs due punti doppio slash questo cid e il file png all'interno. Per verificare che tutto ha funzionato copiate quello che vi appare, tornate nel browser, aprite una nuova finestra e copiate il vostro link nella barra degli indirizzi e poi date invio. Essendo che i file png sono appena stati caricati prima che appaia ci potrà volere un po' di tempo. Tenete conto che stiamo utilizzando un gateway ipfs libero e quindi potrebbe essere più lento. Per velocizzare il processo ma non sempre così potete tornare su pignata, cliccare sulla cartella che avete caricato e una volta che vi sarà apparsa questa schermata potrete cliccare sul numero che volete, ovviamente da 1 a 10 perché ripeto che ne ho creati solamente 10 e vediamo che l'immagine qui con questo gateway, quello di pignata, è già apparsa mentre in quest'altra finestra ha cambiato gateway e non ha comunque ancora trovato il nostro file png. Per completare tutta la procedura adesso dovete tornare su pignata, cliccare upload, folder, select e adesso andare a selezionare la cartella metadata. Anche qui do l'ok e come nome inserisco 2. Ovviamente voi date i nomi che volete ad esempio alla cartella 1 con le immagini voi date magari images e alla cartella 2 chiamatela sempre metadata come sono chiamate qui nella cartella. Una volta fatto ciò poi potrete procedere con il caricamento su OpenSea. Anche questo video termina qui. Se sei interessato a questo tipo di argomenti fammelo capire lasciando un commento sotto questo video e magari anche iscrivendoti e lasciando like. Vi ricordo che nel banner del mio canale ci sono alcuni link utili come la mia collezione su OpenSea, il sito web, Instagram, GitHub e Discord. A proposito entrate in quest'ultimo perché a breve regalerò 500 nft a 500 di voi che farete parte del mio gruppo Discord. Per ora è tutto, alla prossima, ciao! Grazie a tutti!